Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video informativo per quanto riguarda un altro glitch dei soldi ancora funzionante ragazzi. Non so se vi ricordate questo glitch, però per fare questo glitch avevamo bisogno di un po' di requisiti, ma questo glitch ci dava la possibilità di duplicare all'incirca un'auto al minuto, dipende tutto da quanto siamo veloci noi e questo glitch è abbastanza non complicato, ci vuole una certa preparazione, ma una volta che si è preparati tutto è veramente qualcosa di spettacolare. Per fare questo glitch serve un amico, un deposito veicoli speciali, una base operativa e la LG Retro Custom. Sono piccole cose diciamo, però comunque è abbastanza semplice veramente da fare, l'importante è che capite solamente i primi passaggi ragazzi, perché poi del resto il glitch viene da solo. Che altro dire, il glitch come ho già detto è abbastanza semplice, l'importante è che seguiate comunque il video, non questo video ragazzi, ma questo video serviva solamente per informarvi. Il video in questione ve lo lascerò nella schermata finale di questo video, quindi guardate il video fino alla fine e avrete il collegamento su quella schermata finale di dove troverete il video ragazzi. Comunque è veramente semplicissimo, bastano veramente pochi passaggi per poter fare 10, 20, 30 auto una dietro l'altra. L'importante è come ho già detto che seguite alla lettera tutti quanti i passaggi del video, tutto ciò che dico nel video e riuscirete, riuscirete senza nessun genere di problema ragazzi, perché è veramente semplice, non pensate che sia tutto sto complicato, perché non lo è. E niente, vi voglio anche ricordare che l'altro glitch dei soldi è ancora funzionante, quello della base operativa, sto cercando altri glitch che magari non richiedono la base operativa, non richiedono il com, non richiedono tanti altri requisiti, perché comunque alcune persone non hanno tutti questi requisiti, oppure non hanno fatto il glitch del creatore, o non stanno facendo il glitch del creatore. Io adesso non so se funziona quel glitch, perché io non l'ho portato sul canale, non credo lo porterò sul canale, perché tanto penso che è una questione di ore e sarà pacciato. Quindi detto questo ragazzi, approfittate di questi glitch, un saluto da Maxi, al prossimo video.